Per la prima volta dopo 37 anni da un sequestro che fece epoca Giorgio Calissoni, rapito insieme alla madre Anna Bulgari, scomparsa lo scorso maggio, ripercorre uno dei rapimenti più brutali della stagione dei sequestri. Ti ho visto negli occhi, in prima visione esclusiva su Raiplay da oggi. Vediamo. Io non pensavo di tornare viva. Ti ho visto negli occhi, è disponibile su Raiplay. Raiplay, molto più di quanto immagini.